Non c'è wifi! Via! Un buon giallo! E' in assenza piccola, l'entro grado ci sono tutti i metri. Come un tempo, direi buono e quasi è più po' lento alla squadra. Complimenti manda! Sinistro! Via! Sinistro! 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 Non dico io già! Aspetta! Aspetta! Vai! 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 Vecchio! Mancini! 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 è troppo alto a più di una a più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.